Gli auguro ovviamente un grande in bocca al lupo che sia una campagna elettorale all'insegna del confronto, delle idee, delle proposte e non all'insegna delle bugie e di qualche notizia falsa e tendenziosa solo per convincere e recuperare qualche manciata di voti. Si vota il fair play Mario Conte nel giorno in cui Giorgio Denardi ha sciolto le riserve, sulla carta è lui l'imprenditore digitale 62enne, il suo principale sfidante in vista delle amministrative 2023, in attesa che pure il terzo polo che alle ultime politiche in città ha superato la Lega esprima il proprio candidato, anche se per il nome di Niccolò Rocco ormai manca solo il sigillo dell'ufficialità. La campagna elettorale a questo punto sembra iniziata con tutti i crismi del caso, lo stesso Conte alla domanda se sia pronto al confronto con gli avversari sciorina le cose fatte. Io devo fare il sindaco, è un ruolo immersivo che richiede un impegno H24 7 su 7 e quindi il tempo che dedicherò alla campagna elettorale sarà davvero poco, devo seguire i cantieri, stiamo coltimando la rotonda di Selvana, la pista ciclabile di via Castagnole, di Sant'Antonino, stiamo ultimando il bosco urbano in via Selvatico, ci sono tanti progetti che stanno partendo quindi tempo per fare campagna elettorale francamente non ne ho, se sarà necessario fare un confronto io non mi tiro assolutamente indietro. I dadi principali sembrano così tratti ma nel gioco dell'oca della politica mancano delle caselle altrettanto fondamentali, quelle degli equilibri interni alle coalizioni. Se il PD ha le prese con le primarie e conseguenti frizioni piange, la Lega schiacciata da Fratelli d'Italia non ride, ma per questo ci sarà tempo, per i candidati ora è il momento di studiarsi. Un grande in bocca al lupo a Giorgio Denardi, a Nicolo Rocco se sarà confermato come candidato del terzo polo e a tutti coloro che vorranno proporsi per la carica di sindaco.